Buongiorno, eccoci qua, 15 maggio, martedì, mancano 10 giorni all'inizio del GDPR, torna con noi l'ingegnere Giorgio Sbaraglia e miembro e anche appassionato del Clusit Italia, io sono Colini Francesco, sono direttore tecnico e fondatore di Flash Start, il leader italiano per la sicurezza delle imprese, scuole pubbliche e amministrazioni che si pone sul territorio nazionale con un canale di partner che tra poco vedremo. Tra l'altro oggi, tu ancora non lo sai Giorgio, c'è la presentazione ufficiale dopo l'intervento del GDPR della nuova Cloud Box che è una tecnologia stile ibrido tra il cloud e l'appliance QTM che assolve, che risolve, assolve alle problematiche che sono comunque richieste dal GDPR. Andiamo con ordine, incominciamo subito con la nostra presentazione, quindi incominciamo con le slide, vi chiedo se le slide si vedono correttamente, se l'audio si è ok e se la telecamera si è corretta. Ok, le slide sulla destra si vedono, sulla parte destra del nostro schermo. Bene, giusto perché siccome oggi siamo, insomma, siamo comunque tantissimi, siamo anche sotto sotto al limite di capienza massima di questa piattaforma, vi chiedo gentilmente di aspettare un attimo delle domande, daremo magari degli stop, daremo un paio di stop, delle pause domande, comunque pausa di quarto d'ora, vi dirò le domande, le battete, le comunque visitate sulla chat, se una domanda, se è già stata posta e magari è verificata senza ripetere due volte, così siamo più snelli. Poi comunque alla fine c'è il forum di verifica col sondaggio. Stavolta noi saremo giudicati, con la scuola c'è possibilità di notare, come comunque le lezioni, per cui potrete comunque dirci se vi è piaciuto, oppure se qualcosa è da migliorare. Bene, chiedo l'audio, se è stabile oppure se salta, mi dicono che… Un attimo soltanto, ci dicono che va bene, chiedo con la regia Marco, se mi dici l'audio se è corretto, dice che va bene, ok. Bene, bene. Allora forse c'è un qualche problema magari a livello di band, magari con tornate… Quindi con audio e video perfetti, bene. Bene, io ti lascio la parola, GDPR meno 9 giorni all'applicazione, Giorno Sbaraglia, membro chiuso. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito, entriamo nel tema. GDPR, problema o opportunità? Questo è il titolo che abbiamo dato a questo webinar ed è un titolo che io uso spesso anche nelle mie formazioni d'aula. Perché problema o opportunità? Perché noi italiani siamo portati a vivere queste nuove leggi e ricordiamoci che il GDPR, in quanto regolamento europeo, ha valore di legge. Non è una direttiva che possa essere o meno recepita dallo Stato italiano. No, questo è automaticamente in vigore. Dicevo, perché problema o opportunità? Perché noi siamo portati a vedere queste nuove leggi come una seccatura, come un qualcosa che ci viene calato dall'auto e che serve solo a darci, a complicarci la vita. Non vediamolo in questa maniera perché sarebbe un'occasione persa. Il GDPR, in realtà, soprattutto nella sua parte innovativa, di cui parleremo molto dettagliatamente in questo webinar, il GDPR parla del data breach, cioè parla di come rendere sicuri i propri dati. ricordiamoci una cosa, il vecchio codice privacy del 2003, il 196 del 2003, è nato un'era geologica fa. Mi piace usare questo termine, un'era geologica fa perché nel 2003 non esisteva neanche il fake. Il mondo del web era, vogliamo dire, agli albori. Da allora è cambiato tutto. Scusate, ci dicono che con i cellulari c'è qualche problematica, preferibile con un PC oppure con un Mac. Con i cellulari non è il massimo mai la videoconferente. Inizierete se potete svinciare sul PC oppure sul Mac. Grazie. Parliamo quindi di perché il GDPR potrebbe essere una giusta occasione per le aziende per rivedere la propria sicurezza informatica. Oggi tratteremo del GDPR soprattutto in ottica cyber security e in ottica quello che è definito il data breach. Procediamo. Quindi viviamolo con l'opportunità. Perché questo? Perché oggi, vi dicevo, il 2003 è lontano quando fu creato il codice praia del 696. Bene, oggi è tutto cambiato. Oggi, e qui cito una pagina del rapporto Clusity e Clusity, l'associazione italiana per la sicurezza informatica della quale faccio parte, il Clusity mette ogni anno un rapporto che fotografa lo stato della sicurezza informatica in Italia ed è uno stato piuttosto preoccupante. Il 45 per cento delle aziende italiane sono state colpite dai cyberattari. Questo ha generato danni per circa, alle aziende italiane, circa 10 miliardi di euro. 10 miliardi sono una cifra importante. Questo cosa significa? E questo significa che oggi il mondo è cambiato. E io dico, con questa slide un po' buffa, non ci sono più gli hacker di una volta. Noi immaginavamo, nel nostro immaginario collettivo, pensiamo agli hacker come adolescente, maschio, bianco, con la felpa scura e il cappuccio. Questa è l'immagine che noi vediamo, che noi abbiamo in testa. Bene, quest'hacker non esiste più perché oggi il mondo è cambiato e c'è questo. Oggi il fatturato del cybercrime ha superato quello del traffico della droga. Cosa significa questo? Significa che fare affari con il cybercrime è diventato un business enorme ed estremamente reddifizio. Si parla, e qui ce lo dice IDC, che è il massimo istituto al mondo di ricerche di mercato, si parla di mille miliardi di fatturato del cybercrime a livello mondiale nel 2020. Quindi un numero che apparente è il 50 per cento del PIL dell'Italia. Quindi il mondo è cambiato e quindi dobbiamo pensare a proteggere in una maniera diversa da come facevamo prima qualche anno fa i nostri dati. Perché? Perché, e qui cito un altro collega del Clutit, l'amico Alessio Pennasilico, che dice non importa chi sei, non importa cosa fai, non importa con cosa lo fai, prima o poi ti attaccheranno. Questo è purtroppo vero. Oggi gli attacchi arrivano in maniera indifferenziata. Pensate ai milioni, alle migliaia di email di spam, di phishing che riceviamo tutti i giorni. Questi email non sono generate da una persona che le scrive una persona, sono generate da dei computer. L'effetto del web, l'effetto di internet, della scalabilità è possibile con lo stesso costo e con la stessa fatica mandare un email o un milione di mail che non fanno dei computer. Quindi chi ci attacca lo fa a tappeto. Non gli interessa sapere chi c'è dall'altra parte, gli interessa sapere che su un milione di email qualcuno ci cadrà. E purtroppo chi ci cade è all'incirca l'8, un 10 per cento. Quindi numeri importanti, prego. Mentre cambio la slide, devo ricordare che stiamo registrando anche questo intervento, per cui entro domani in sera, la regia lo metterà chiaramente disponibile online. Per cui potrete comunque rivederlo e anche se volete condividerlo liberamente. Sottolicenza, come è l'audio e il video, ZPL no, Creative Commons. Creative Commons, cioè i miei contenuti sono sotto licenza Creative Commons. Bene, arriviamo quindi al punto, arriviamo a quello che nel GDPR è definito il data breach, la perda dei dati. Qui l'articolo 4 del GDPR è quello dove vengono fatte tutte le definizioni, definisce anche il data breach come la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati e comunque trattati. Quindi, dov'è la parte innovativa del GDPR, quella che io ho classificato come opportunità? Prendiamola questa opportunità. Il GDPR ci fa cogliere l'occasione per rivedere la nostra sicurezza informatica. Perché ricordiamoci una cosa, se mi rubano i dati della privacy, se mi rubano i dati dei miei clienti, dei miei fornitori, dei miei dipendenti o dei miei pazienti, quindi è un guaio e magari il garante della privacy mi sanzionerà pure. Ma se mi rubano i dati della mia azienda, l'azienda non esiste più, l'azienda è finita. Quindi pensiamo a proteggere i nostri dati. Che cosa è un data breach? Vediamo in dettaglio, entriamo in questo argomento. Perché un'altra cosa che mi piace ricordare è che il GDPR ha una parte, lasciatemi dire, tradizionale, una parte che è documentale, una parte che è simile a quello che esisteva già nel decreto legislativo 196. Tra l'altro noi italiani, con il codice privacy, avevamo già una legislazione piuttosto avanzata. Dicevo, la parte innovativa, quella che come direbbero gli americani è la più disruptive, la più dirompente, è la parte che riguarda il data breach. Al Clusit abbiamo detto che non poteva l'Europa creare una legge del tipo mettete in pratica la cyber security, non può esistere una legge fatta così. Quindi ha preso il tema di cui ci ha girato intorno. Cioè ha cercato di introdurre il concetto di cyber security all'interno di un regolamento sulla privacy. Che cos'è quindi un data breach? La classificazione che ci dà il WP29, sarebbe il working party, gruppo agli articoli 29. È un gruppo di lavoro che sta continuamente emettendo linee guida, perché il GDPR ha tanti punti ancora non chiari. Questo working party 29 ha classificato il data breach in tre macro categorie. Ricordatevi, ed è piuttosto facile, è l'acronimo CIA, quindi confidentiality breach, quando c'è una perda di confidenzialità, cioè quando il dato viene in qualche modo non è più riservato, quindi qualcuno ne ha accesso. Integrity breach, quando il dato viene alterato, non è più come l'originale, è modificato o addirittura falsificato. Availability breach, quando il dato viene perso. Availability disponibilità, cioè quando il dato non è più disponibile. Queste tre forme di data breach sono, ve le racconto un po' meglio con alcuni esempi, perché quello che succedeva ieri, quando qualcuno avesse magari subito un attacco, un incidente informatico, con la GDPR in vigore dovrà essere affrontato in modo diverso. E qui vi faccio alcuni esempi. Questo è molto importante, il trattamento di un eventuale intrusione. Esatto. Passiamo alla slide successiva. Ecco. Quali sono alcuni esempi di data breach? Ricordiamoci che il data breach non è solo l'attacco hacker, anzi, forse i data breach più frequenti potrebbero essere data breach di tipo semipassato in termini tradizionali. Per esempio, la perdita di un device non cifrato. Classico, mi rubano il computer portatile da dentro l'auto. Magari all'auto grill, è un classico. Bene, se questo computer viene rubato, non mi hanno rubato un pezzo di ferro, mi hanno rubato un pezzo di azienda, perché in questo computer ci sono i dati importanti della mia azienda. E se questo computer non è cifrato, quella che si chiama tecnicamente, è una metodologia che io consiglio caldissimamente, la full disk encryption, se questo computer non ha il disco cifrato, questi dati finiranno in mano a qualcun altro. E io dovrò dichiarare, denunciare questo data breach. Altro esempio, un'intenzione procurata da un ransomware. I ransomware sono quei malware che entrano nei nostri sistemi e criptano i file, e quindi li rendono indisponibili. In questo caso c'è una perdita di disponibilità. Anche questo è un caso che dovrà essere denunciato al garanzo della privacy. Per esempio, il crypto locker. Esattamente, il ransomware per eccellenza è quello che tutti conoscono, è il crypto locker. Lo conoscono perché io, facendo tanta formazione, tanti corsi nelle aziende, vedo che tante aziende purtroppo ci sono capitate anche più di una volta. Due punti molto importanti. Siccome abbiamo tantissimi consulenti informatici, più della metà delle persone che stanno seguendo questo webinar di oggi, sono consulenti ICT. Il consulente informatico comunque si rileva che c'è stata un data breach e quindi comunque sensibilizza il suo cliente a denunciarlo. Se il cliente non lo fa, il consulente informatico è che è manutenitore. Ci sono delle figure precise. La responsabilità, e poi lo vediamo tra qualche slide, la responsabilità di autodenunciarsi, cioè di comunicare al garante il data breach, è in capo al titolare. Poi c'è la figura del DPO. Poi ci sarà l'altra figura del Data Protection Officer, che non esisteva nel vecchio codice privacy, che è stata introdotta, è una delle cose più innovative di questo regolamento privacy. Il DPO, che è una figura strana, se vogliamo, una figura strana perché è una figura nominata dal titolare, quindi pagata dal titolare, direi che nasce in conflitto di interessi per definizione, perché è pagata dal titolare, ma deve rappresentare l'anello di consunzione tra l'azienda e il garante. Quindi deve controllare l'azienda e dall'altra parte deve essere quello che si interfaccia col garante in maniera, direi, indipendente. L'avvocato del DPO, però sempre comunque per il canale, se il DPO mette il caso che sia esterno, Giorgio, spinge nel denunciare l'eventuale data breach, ma il titolare non vuole farlo, chi rischia? Allora, in prima di tutto il titolare. È chiaro che il DPO dovrà comunicare che quello che sta facendo il titolare è in violazione, dovrà comunque intimare, indurre, invitare il titolare ad adempiere al GDPR, dopo di che se questo non lo fa, la responsabilità sarà la sua, perché si possono innescare anche responsabilità penali. La figura del DPO è piuttosto delicata. Il DPO può essere in una piccola impresa che, Roberto, anche il titolare può concedere? No, assolutamente no. Deve essere una figura in qualche modo terza. Di garantia. Sì, tra l'altro in una piccola impresa il DPO non è richiesto, non è obbligatorio. Il DPO è richiesto nelle aziende pubbliche, sia piccole che grandi, e questo è un problema, perché anche una piccola azienda che abbia, che operi secondo le regole del diritto pubblico, è obbligato a avere il DPO, o per le aziende grandi, sotto i 254 dipendenti. In una scuola invece chi può essere, secondo me ne abbiamo tante scuole, chi può essere? In una scuola potrebbe essere anche un insegnante esperto, cioè il DPO può essere anche un interno, però si configura una persona, un ruolo che non deve essere dipendente in maniera funzionale dal titolare. Cioè deve essere una persona che va a controllare quello che fa il titolare. Questa è una situazione veramente che nasce in conflitto di interesse. Ricordiamoci che questa legge, il GDPR, nasce in una logica di common law, cioè la legge, la giurisprudenza anglosassone, che è diversa dalla nostra. E io parlando con giuristi di valore, mi hanno spiegato che nel common law è diffusa la figura del controllato che nomina il controllore, cosa che nella legislazione italiana non è. Quindi il controllato, cioè il titolare, nomina il controllore, cioè il DPO. Finiamo questa slide velocemente. Può essere il responsabile dell'informazione come chiedono il giurio di una scuola? Assolutamente, è un conducente, può essere. Non esiste una figura certificata di DPO per il momento, il GDPR dice che deve essere una figura con capacità professionali, quindi con conoscenze specifiche, ma non esiste ad oggi un albo dei DPO, una certificazione di DPO. Esistono delle modalità per fare formazione e quindi anche per certificarsi, ma per essere DPO, quindi c'è una norma che ha attivato una certificazione sui DPO, ma questa norma non rende il DPO obbligatoriamente certificabile, cioè non è necessario che il DPO sia certificato. Bene, proseguiamo. Proseguiamo. Dunque, la notiamo e poi la riponiamo. Proseguiamo, grazie. Ah no, scusa, c'era un attimo da finire. Il terzo caso è la perdita di disponibilità se un dato viene inviato per errore, per esempio, ad un terzo non autorizzato. In questo caso il dato diventa di dominio di qualcuno che non l'avrebbe dovuto ricevere. Ok? Andiamo avanti. Ecco. rispondo a Gian Bruno Giusto. Come fare per fare la comunicazione del data breach? Ne parliamo tra un paio di slide. Vi rispondo tra un paio di slide. Il GDPR prescrive alla sezione 2, racconta alla sezione 2 in particolare agli articoli 32 e 34, come comportarsi in caso di data breach. Lasciamo stare l'articolo 32, perché non abbiamo tanto tempo, ma comunque l'articolo 32 dice che l'azienda deve mettere in pratica le misure più idonee per proteggere i suoi dati, eccetera, eccetera. Quindi è un articolo abbastanza descrittivo. Veniamo subito all'articolo 33. La notifica di una violazione dei dati. Nel caso in cui si verifichi una violazione, il titolare ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità di controllo. L'autorità di controllo in Italia è il garante della privacy. Senza un giustificato ritardo e entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta conoscenza. Questo è estremamente importante. Vedremo dopo le condizioni nelle quali si può esimere dal fare la comunicazione. Qualora la faccia in ritardo deve comunicare i motivi di ritardo. Per esempio è prevista una situazione di istruttoria. Cioè io titolare non ho capito se c'è stato veramente un data breach, mi prendo un attimo di tempo per investigare e per capirlo. Questo tempo non viene conteggiato nelle 72 ore perché potrebbe esserci non sempre è automatico capire che c'è stato un incidente informatico. È chiaro che se mi rubano il computer in auto lo capisco subito, ma se c'è qualcosa di un intruso nei miei sistemi informatici potrei non capire se c'è stato veramente un data breach. Bene, andiamo avanti. Ecco, anzi, anzi, sì, andiamo avanti. Facciamo in fretta l'articolo 34 è forse ancora più pesante perché non solo ci obbliga di dare la comunicazione al garante della privacy per il data breach, ma in certe condizioni ci obbliga a informare anche gli interessati cui dati sono stati rubati. Quindi voi capite quanto sia imbarazzante, questo è un articolo delicato nel quale sarebbe bene non incappare mai, perché noi ci troveremo a dover andare a dire ai nostri clienti, ai nostri fornitori, ai nostri dipendenti, guarda, ci hanno rubato i tuoi dati. Capite che dal punto di vista reputazionale è una pessima figura. Qui ho elencato i casi nei quali questo può succedere quando il titolare è tenuto ad informare gli interessati in caso di danni fisici, materiali, morali, danni economici, furtanto situazione dell'identità, pregiudizio alla reputazione, perdere del controllo dei dati, limitazione dei diritti, decifrattura non autorizzata nella pseudonimizzazione, discriminazione, perdere finanziarie, sono tanti i casi. L'articolo 34 è complesso da capire, è complesso da capire, ma però abbiamo una via d'uscita estremamente importante, di cui parleremo poi quando parleremo di come mettere in pratica la cyber security in ottica GDPR. L'articolo 34 esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui, e vediamo il punto A che è il più interessante, nel caso in cui i dati rubati siano incomprensibili e quindi inutilizzabili. Quindi, per esempio, si sono cifrati. Non a caso vi ho citato l'esempio del furto di computer, il computer che ti viene rubato all'ortogrid, perché se quel computer ha il disco cifrato, quei dati non sono utilizzabili. Quindi chi ce lo ruba, ce l'ha rubato un pezzo di ferro e non un pezzo di azienda. In questo caso non esiste, se io avrò adottato questa sanissima e utilissima misura, non avrò bisogno di fare la denuncia, la comunicazione all'interessato e non la dovrò fare neanche al garante della privacy. Dovrò, tuttavia, questo è sempre obbligatorio, registrare, c'è il GDPR che prevede il registro di data breach, dove io dovrò registrare qualunque data breach, dove dirò, in questo caso, non ho fatto la denuncia, la comunicazione dal garante della privacy, perché avendo tutto cifrato, questi dati non sono utilizzabili. Ma il registro del data breach, che, ve lo ricordo, non è necessario che sia un documento autonomo, ma può risiedere all'interno del registro delle attività di trattamento, ecco, dicevo, in questo caso io dovrò comunque registrarlo, ma sarò libero, se avrò fatto delle cose per cui i dati rubati non sono utilizzabili, potrò esimermi da dare comunicazione. Un altro caso in cui la comunicazione agli interessati non è necessaria, è nel caso in cui ho adottato misure, è un po' come la voce A, ho adottato misure tali da scongiurare i rischi. E poi c'è il caso C, che non ci esime, ma cambia solo la modalità, qualora la comunicazione richiedesse sforzi proporzionati. In questo caso non è che non la devo fare, la farò con altri mezzi. Magari non manderò 3 milioni di email a tutti i miei clienti, se sono la Telecom o l'Enel, magari farò uno spazio, magari sull'home page del mio sito, ma la comunicazione va comunque data. Rispondo a Giacomo Chiarenza, fino a che punto è sicura la cifratura? La cifratura è un argomento un po' complesso e anche complicato da trattare in così breve tempo. Adesso parliamo della mitigazione del rischio e quindi vi racconto velocemente, quindi chiedo a Giacomo di pazientare un attimo perché ne parlerò tra un paio di slide. Cosa possiamo fare quindi per mitigare il rischio, per ridurre il rischio di data breach? Ci sono alcune buone pratiche, alcune best practice, che andrebbero applicate non solo per la privacy, ma per salvare i dati della mia azienda. Perché ricordatevi, se mi rubano i dati dell'azienda, non è più un problema di privacy, è un problema di sopravvivenza dell'azienda. Le elenco molto velocemente. Queste che sono in questa slide sono generali. L'azienda è una buona igiene informatica che chiunque doveva applicare. Quindi applicare il minimo privilegio, cioè ciascun dipendente dell'azienda doveva avere accesso solo ai dati che gli servono. Perché più dati ha possibilità di vedere, più dati ha possibilità per farlo di rubire. Adottare politiche di patching, quindi aggiornare i sistemi. Quando vengono rilasciati gli aggiornamenti, questo viene fatto per chiudere patching, le vulnerabilità. Quindi non dimenticatevi mai di tenere i sistemi aggiornati. Criptografare i dati sensibili, anche la full disk encryption. Poi dopo ne parleremo in una slide successiva dedicata. Utilizzare l'autenticazione di due fattori. Quella che per esempio usiamo quando ci logghiamo al sito dell'internet banking. Si può fare con tanti altri siti. Si può fare, dovrebbe essere fatta anche con certi applicativi che le aziende usano. Purtroppo, e qui lo sto toccando con mano andando molto nelle aziende, molti fornitori di applicativi, per esempio i gestionali che hanno le aziende, non si sono ancora adeguati al GDPR. Sono in forte ritardo. Al di là di tutto, predispone un corretto disaster recovery plan. Cioè, anche se io faccio tutto il rischio, ricordatevi nella slide di Pennasilico di prima, la citazione, non importa chi sei, non importa cosa fai, che poi ti attaccheranno, nonostante io abbia fatto tutto al meglio, il rischio di un incidente informatico ci può essere comunque. Scusa, solo una cosa, mi dicono, se in caso di data breach deve fare notifica soltanto quelli che hanno dati particolari. No, tutti, tutti. I dati particolari che quelli... La caratteria, che ha magari soltanto la ragione sociale per fare le fatture ai suoi clienti, deve comunque notificare. Il data breach è successo. Poi non sono dati sensibili che il GDPR chiama dati particolari. Bene, quindi il disaster recovery plan deve essere un'attività programmata in funzione della quale io sono in grado di sapere cosa fare se succede un incidente. Quanto tempo può fermarsi la mia azienda prima che i miei clienti si arrabbino? Quanto tempo posso stare fermo prima che le mie linee produttive vadano in crisi, eccetera, eccetera? Ecco, questo è un piano di recupero dal disastro. E l'ultima cosa, importantissima, probabilmente la più importante, trasformare l'utente ad anello debole a prima linea di difesa, il fattore umano. Ne parleremo in seguito, è estremamente importante. Bene, queste altre norme invece, queste altre best practice, sono espressamente indicate nel GDPR, sono proprio elencate, quindi queste sono tipiche dell'attività che ci consiglia il GDPR. La minimizzazione, poi le andremo a vedere una per una, la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati e la minimizzazione. La minimizzazione non è una norma di sicurezza, è un principio di trattamento. Cioè, la regola è, meno dati ho da trattare, meno rischio ho. Se una cosa non ce l'ho, non me la rubano. Quindi perdiamo la pessima abitudine, pessima, in passato non era granché importante, di conservare per tantissimo tempo tanti dati. Se non mi servono più, non li tengo più. Ci dovrà essere un tempo al termine del quale io cancello i dati. Se autonomizzazione è una misura di sicurezza, invece questa è importante, la cifratura e l'anonimizzazione le andiamo a vedere in una. Che cos'è la pseudonimizzazione? È la possibilità di slegare il dato personale, nel GDPR si parla sempre di dato personale, di sganciare il dato personale dal nome dell'interessato. Quindi l'informazione, io associerò quel dato personale a un codice numerico, per esempio. Quel codice numerico, a chi corrisponde? La corrispondenza sarà conservata in una tabella separata. Quindi se mi rubano l'archivio dei dati personali, troveranno codici associati a dati, ma non sapranno a chi corrispondono questi dati. È una misura interessante e utile. Veniamo a quella più importante, la cifratura. La cifratura può essere fatta a livello di file, può essere fatta a livello, ci sono tante forme di cifratura, può essere fatta a livello di hard disk, quindi la full disk encryption, può essere fatta a livello degli archivi che vengono utilizzati, per esempio, sui gestionali. I gestionali lavorano con un sistema di archivi con SQL, quindi l'utente non accede all'archivio, ma accede a delle maschere che consultano gli archivi. In questo senso la cifratura può essere possibile, o l'azienda è particolarmente brava e specializzata, altrimenti la cifratura degli archivi che operano con i gestionali dovrà essere fatta in collaborazione con il fornitore del nostro gestionale. Vi assicuro che in questo campo, io ne ho contattati diversi anche perché mi ci trovo ad avere a che fare nelle aziende, scusate, mi ci trovo ad avere a che fare nelle aziende e purtroppo i fornitori di gestionale sono ancora molto indietro. Però la cifratura sarebbe, lasciatemi dire, quello che taglia la testa al toro, nel momento in cui i dati sono cifrati, chi li occupa non se ne fa nulla. E' vero, e così rispondo anche a Stefano Torchia, la cifratura è una crittografia, ha un peso computazionale, quindi potrebbe comportare un allungamento dei tempi. Cioè il nostro computer farà più fatica, dovrà fare dei passaggi in più. Se abbiamo dei sistemi già magari che sono un po' deboli, un po' sottopotenziati, con la cifratura peggioreremo le cose, perché c'è comunque... E' un giottimato quindi a non usarla se fai giro le performance oppure no. E' un compromesso, è chiaro che io posso dire, non la uso sapendo che corro dei rischi, la uso sapendo che magari dovrò cambiare il computer. E' un compromesso tra rischi e benefici. E poi c'è l'analizzazione, questo è meno importante, l'analizzazione significa slegare completamente il dato dalla persona, cioè scollegare il dato personale dalla persona. Questa cosa si può fare solo qualora io abbia dei dati, che uso a carattere statistico. Quindi non mi interessa più sapere che Giorgio Sbaraglia fa queste cose, dirò semplicemente che Giorgio Sbaraglia che rientra nei clienti di Forlì. E quindi avrò i clienti o di Cesena. E quindi il dato personale non è più collegato alla persona, ma mi serve solo per fare statistiche. Quindi capite che l'analizzazione non è di gravissima utilità. Arriviamo verso la conclusione e ve la faccio raccontando una brevissima storia vera. Successe in un'azienda che ho toccato io con mano. Un'azienda un giorno subisce un attacco a Ramson perché qualcuno aveva cliccato sull'email sbagliata e tutta l'azienda si blocca. Un bel guaio. Per fortuna l'azienda era ben organizzata, una PMI di 50-60 dipendenti e riesce nel giro di 4 ore, vi assicuro che 4 ore di andate di lusso, riesce a ripartire. Ma l'amministratore delegato è furioso perché si rende conto che ha perso 4 ore di fatturato e chiede di portargli il colpevole. Il colpevole arriva, quando gli stanno per fare la lavata di capo questa persona dice io non sapevo neanche che esistessero quelle cose lì. Oggi una frase del genere nel 2018 non è più ammissibile. Non è più ammissibile perché io non posso avere dipendenti che cliccando a vanvera perché non sanno cosa stanno facendo, perché non hanno la consapevolezza, la parola consapevolezza è molto importante, non hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo, arrecano all'azienda dei danni che potrebbero essere anche irreparabili. Quindi è estremamente importante che noi facciamo formazione ai nostri dipendenti perché oltre il 90% di attacchi informatici sono causati dall'errore umano. È l'errore umano anche quello che lascia il computer all'autogrill in macchina, ovviamente, ma quasi tutti, e qui non ho il tempo di dilungarmi, ma quasi tutti gli attacchi informatici sono causati dall'errore umano. Quindi fare formazione è una cosa estremamente importante che lo stesso GDPR prevede all'articolo 39, lo prevede in diversi punti, ma in particolare cito l'articolo 39 dove viene invitato il DPO responsabile del trattamento a fare certe cose, tra cui ho estratto il punto B la sensibilizzazione della formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. Siccome chiunque in azienda ha un computer, chiunque in qualche modo gestisce dei dati. Quindi chiunque è un soggetto a rischio che andrebbe formato. Aggiungo una cosa, la formazione andrebbe fatta nell'attività di preparazione che un'azienda fa sul GDPR, e io ripeto, in questo periodo ne sto facendo tante proprio in questa ottica, dopodiché consiglio sempre alle aziende nelle quali vado a fare questa formazione di registrare questa formazione che fanno nel registro dei trattamenti. Ricordatevi che il registro dei trattamenti quantunque non obbligatorio al di sotto di certi scaglioni di dimensioni aziendali andrebbe fatto comunque, perché è un registro di bordo dove l'azienda registra tutto quello che fa e dovesse mai arrivare il garante della privacy perché è successo un incidente sarà la prima cosa che guarderà. Quindi noi dimostreremo che abbiamo fatto una serie di attività tra le quali per l'appunto la formazione. E con questo vado a concludere con la slide che tipicamente conclude i miei corsi. In ogni cyberattacco c'è sempre almeno un erogno umano, il problema esiste tra la tastiera e la sedia, cioè è l'essere umano. Quindi lavoriamo molto sull'essere umano perché i sistemi informatici possono essere protetti, la cifratura può essere protetta, ma si può essere sempre il rischio che una persona per incapacità o anche per dolo possa rubare, per esempio, dati o possa cliccare nel posto sbagliato e fare entrare un attacco informatico. Io vi ringrazio. Noi ringraziamo te. Ci sono i miei contatti e a questo punto passo la parola a Francesco. Lasciamo un po' di spazio alle domande, anzi, il GDPR deve essere fatto anche da libero professionista. Io sono un libero professionista, è chiaro che dipende dai dati che uno tratta. Un libero professionista medico mi dicono che dovrebbe essere abbastanza esentato. Un poliambulatorio lo deve fare. Magari con dati di analisi. E' chiaro che se poi un medico ha già dei dati importanti, ma io ad esempio, se un professionista ha nel suo archivio solo i dati, telefono, partita IVA, prodise fiscale del suo cliente, direi che in pratica l'ha già fatto. Ci chiedono se va tutto fatto entro venerdì prossimo, il 25. Sì, ma in pratica no. Nel senso che entro il 25 pochi saranno le aziende a posto, ma come vi dicevo all'inizio nel fuori onda che abbiamo fatto prima delle 11, sappiamo già per certo che non ci sarà da parte del garante della privacy un accadimento. Non è che il 26 arriveranno i lanzicchianetti nelle aziende a fare molte. Ovviamente il garante della privacy, come ha fatto anche quello francese, non può dire io prorogo le entrate in vigore, perché un regolamento europeo non ha potere per prorogarlo in garante. Può far capire in maniera più o meno velata che non si accanirà da subito, ma darà tempo alle aziende. In Francia il garante è stato molto brillante e ha detto che dal 26 cercheranno di aiutare le aziende. È un modo di dire garbato per dire non vi faremo le multe subito, vi daremo tempo. Saremo che lo fanno anche in Italia. Sicuramente, anche perché il garante lui stesso non è attrezzato come forza materiale. Dieci minuti perché voglio parlarvi di soluzioni. Aspetta, rispondiamo un attimo. Allora, quali sono gli scaglioni in cui vengono divisi le aziende? Beh, allora, c'è lo scaglione di sopra i 250 dipendenti, poi ci sono, qui entriamo in un tema che è in un seminario che è difficile trattare, poi ci sono tutti gli scaglioni legati al tipo di dati e alla numerosità di dati che lo tratta. Un'azienda potrebbe essere molto piccola, faccio un esempio, un'azienda che fa e-commerce, magari ha 20 dipendenti, 10 dipendenti, ma ha milioni di clienti con tanti dati acquisiti via internet. Ecco, in questo caso ha il problema più complesso di un'azienda magari metalmeccanica con 200 dipendenti che però in realtà ha dati meno sensibili. Però magari ha i dati dei dipendenti, i vari dipendenti sono già intrinsecamente dati sensibili, perché ci possono essere, quando si fa le buste pago, essere le informazioni un po' delicate. Bene, proseguiamo. Poi c'è ancora spazio per le domande. Scusa, faccio l'ultima risposta. Per gli enti pubblici, il responsabile, immagino il DPO, è sempre l'amministratore informatico incaricato. No, non è necessario, può essere una figura qualunque. L'amministratore informatico suppongo intendiate l'amministratore di sistema. Non c'è nessuna prescrizione in questo senso. Il GDPR, proprio per chi viene da una logica di common law, di diritto anglosassone, non è particolarmente rigido. Dice, lasciatemi dire, io la metto giù brutta, il GDPR dice, fate quello che vi pare, ma fatelo bene. Ci chiedono se faremo qualcosa per le pubbliche amministrazioni. Sulla sezione scuole, su flestart.it. slash scuole, c'è un webinar precedente, si può scaricare, si può rivedere, come peraltro anche questo che mi ha messo online su YouTube, con i contenuti specifici delle scuole, per cui il cyberbullismo e anche altri contenuti. Bene, dieci minuti e voglio spiegarvi della soluzione. L'ingegnere Sbaraglia ha parlato delle problematiche e anche degli accorgimenti, io invece vi parlerò di soluzioni. Poi comunque riprendiamo ancora per le domande, questo chiaramente in calce. Flestart, ormai diversi di noi, diversi di dire anche che i clienti finali conoscono Flestart. Noi ci occupiamo di sicurezza informatica da 2001, quindi da oltre 16 anni, per imprese, scuole, pubbliche amministrazioni. Cerchiamo di vedere questo GDPR come un'opportunità, anche che come un'interiore e comunque burocratia che Europa ci ha messo. Gli attacchi, l'ha già lancato l'ingegnere, l'intrusione dall'esterno, gli attacchi di forza brutta, l'infezione, il furto di identità, il phishing, e anche, l'ho messo per ultimo perché voglio collegarlo, poi con le slide successive, l'accesso ai siti indesiderati e anche pericolosi. Perché molto spesso, diversi attacchi, anche diverse compromissioni, provengono da un comportamento che è racconto da parte degli clienti interni, per cui comunque l'azienda, e per cui, dicono più volume, per cui comunque l'azienda deve, oppure la scuola, soprattutto con i minorenni, deve tutelarsi. Così l'audio è basso? O si sente bene l'audio? Chiedo... Bene. Quindi, gli accessi involontari ai contenuti inadatti e anche gli accessi invece volontari, ancora peggio, per esempio, ai siti pornografici, portano chiaramente problemi, sia alle infrastrutture che anche ai problemi che sono poi legali. In questa slide ho racchiuso due articoli di Repubblica, ma ce ne sono tanti, per la pornografia online, denunciati tra i dici genovesi, lotta ai pirati del download, per esempio lo scarico e il download di materiale che ha protetto, come la musica, oppure come il film, oppure come il software. Ecco, dicono che il microfono non è così, un secondo il feedback, se così si sente bene, oppure se ti suona anche dice basso, facciamo ancora il volume. Allora, ti scusi più di me? Così? Mi era meglio prima. Andiamoci d'accordo. Così? Ok, dai. Dicono ok. Ok, perfetto. Andiamo. Oh, bene. Siamo a perfezione. Eccoci qua. Questo è un esempio di una navigazione non protetta, di un cliente, di esempio, che ho scurato. Abbiamo siti di cracks e waris, ossia siti sia di virus, ma anche di software che servono per proteggere, software protetti dal diritto di autore. Giochi d'azzardo, pornografia, siti per adulti, droghe e anche phishing. Questo è la schermata della nostra versione cloud, della piattaforma Flash Start. Questi invece sono i malware che vengono rilevati dal sistema in un certo periodo comunque di tempo. Per esempio, RAM, software phishing, botnet e anche attacchi su una rete che è senza filtraggio. Siccome ci sono tante aziende, credo comunque tanti imprenditori che hanno imprese oppure che seguono imprese, qualcuno ha mai, ma è importante, anche ritengo per pubblica amministrazione, qualcuno ha mai considerato il costo culto dell'utilizzo improprio di internet? Bene, ve lo dico io. Consideriamo un'impresa che ha 10 dipendenti con tratto commercio. Circa il costo orario può essere di 16 euro lonti all'impresa, tra contributi, tasse e fiscalità varie. Circa, consideriamo che queste 10 persone circolano ora al giorno per persona, si distraggano, perdono tempo su internet. Bene, quanto costa l'impresa in anno? Costa 160 euro per un giorno di lavoro, 3520 euro per un mese, considerando che nell'anno si lavora 10 mesi, tra ferie, permessi, festività e anche malattie, costa all'anno 10 dipendenti per un'ora solo di distrazione 35.200 euro, senza considerare i rischi legali e anche i rischi alle infrastrutture chiaramente legate alle compromissioni. Quanto costa acquistare un sistema di sicurezza e anche di filtro? Costa molto, molto, molto meno, vedete addirittura tre volte. In questa slide di Arnold dice come ha fatto il capo a beccarti su Facebook durante l'orario di lavoro? Lui risponde semplicemente ho accettato la sua richiesta di amicizia, quindi per beccato poi. Purtroppo gli errori che fanno le persone sul lavoro, gli errori che fanno le persone sono imbarazzanti in un'ora. Molto, anche divertenti però questa cosa. Divertenti ma uno dice come è fatto a fare una cosa e la gente lo fa. E si trova. Flash Start distribuiamo oggi lo posso dire con un certo orgoglio da due anni il nostro marchio in tutti i mondi. Abbiamo una rete di sei data center sparsi tra l'America e l'Europa e anche l'Asia. Abbiamo 600 rivenditori globali. Il nostro servizio si basa su dei nodi che sono su Milano, Francoforte, New York, Miami, Singapore e anche Sydney. Ci occupiamo di filtraggio di contenuti, di malware mitigation, di reportistiche per cui possiamo fornire l'analisi di come viene usato internet chiaramente con dati aggregati che sono compliant, sono corretti circa la legge sulla privacy. Ci occupiamo di bloccaggio geografico. Per esempio noi possiamo escludere certe aree come la Russia dall'Asico che è il 95% se non di più di provenienza e dell'intera produzione tra virgolette di malware in realtà no perché ad esempio un grandissimo produttore di spam questo la gente non lo sa è l'India l'India è il produttore del 20-25% di tutte le mail di spam gli indiani sono bravi informaticamente si costano po' e costano po' esatto è importante proteggiamo le reti e offriamo servizi di frontiera e anche di networking e questa volta ho anche inserito questa questa slide e ci attaccassero flash start siccome noi eroghiamo tramite cloud sicurezza se compromettessero un nodo oppure se lanciassero un attacco a forza brutta i nostri clienti che garanzia avrebbero disservizio di continuità se un nodo viene attaccato e compromesso il nostro comunque sistema di presidio che è attivo H24 7 giorni su 7 rileva qual è il nodo in phone tra termine tecnico il servizio BGP cioè il servizio che gestisce l'instradamento viene arrestato automaticamente il traffico delle richieste di filtro vengono dirottate su altri nodi quindi per esempio se Francoforte viene compromesso automaticamente andranno su Milano oppure andranno su Miami attiviamo le segnalazioni liberiamo dalla compromissione e dall'attacco a forza brutta il nostro nodo a quel punto viene tutto ristabilito le soluzioni di Flest Art oggi ve ne mostro due vi mostro la soluzione consolidata Flest Art Cloud è una soluzione che è ideale per le scuole inferiore per le micro imprese quindi le imprese fino a 4-5 dipendenti per associazioni e per proteggere per i comuni questo è molto importante le aree con lo spot wifi poi vi mostro invece sulla destra di colore blu la versione Cloud Box la versione che lanceremo all'inizio di giugno quindi siamo praticamente pronti con la beta e oggi ho il piacere siccome ho tanti rivenditori che hanno spinto per avere qualche cenno e colgo l'occasione oggi per presentarla questa è studiata ideale per le scuole superiori per le piccole e medie imprese per le medie o per le imprese e anche poi per i comuni quindi per le pubbliche amministrazioni parliamo della Cloud Box Flaster Cloud oggi giorno tutti la conosciamo la Cloud Box che risponde meglio al discorso GDPR offre filtro contenuti malware e geoblocking granulare cosa vuol dire granulare significa che io posso specificare che utenti possono fare certe cose per esempio ai commerciali e danno Facebook per motivi di contatto di lavoro per esempio ai tecnici oppure comunque ai amministrativi posso bloccare Facebook in quanto magari non devo usarlo per lavoro quindi posso profilare se l'accesso posso autenticare gli utenti e anche assegnare poi diverse pollici diverse politiche di navigazione Cloud Box prevede anche l'integrazione per la Fibre Rectory di Microsoft e anche molto importante con la Google G Suite ringrazio Andrea che ci sta lavorando in questo momento in modo molto importante nelle scuole oggigiorno la Google G Suite è molto utilizzata gestiamo può gestire più linee internet quindi comunque bilanciare il traffico switchare in caso che una azienda abbia per esempio la Fibre Optica e il Guaymax con la parabola può gestire più reti per esempio per le scuole è molto importante anche separare la rete degli uffici della rete della didattica quindi per evitare degli attacchi dal cosiddetto focamico che sono gli studenti nei laboratori ricordiamoci che questo ne parlo quando faccio i corsi nelle aziende più del 50% degli attacchi informatici arrivano dall'interno non dall'esterno e quindi dobbiamo proteggerci anche all'interno gestiamo il firewall protezione perimetrale viene anche introdotto il filtro applicazioni layer set per bloccare per esempio BitTorrent BitTorrent oggigiorno è un servizio criptato per cui non è bloccabile con i normali filtri contenuti filtri DNS oppure proxy serve un application layer quindi un sistema di analisi superiore delle impronte digitali del fingerprint dei vari pacchieri i layer della navigazione sono 7 sono sì chiaramente qui lavoriamo su layer 7 su 7 chiaramente poi gestiamo comunque la VPN per esempio se avete comunque impresa oppure scuole con più sedi potete collegarli insieme creando un'unica rete offriamo anche il servizio di remote working per il lavoro per lavorare per esempio da casa oppure per lavorare da mobile dai cellulari reporting e anche analisi del traffico Domenico per ogni chiede la versione l'attuale io aggiungerei la versione appliance quella rimane operativa ancora per un anno e la cloud box prenderà poi il posto dell'appliance per cui tutti i clienti con Flaster e l'appliance con un contratto attivo potranno aggiornarsi in modo gratuito alla nuova versione cloud box che racchiuderà tutte le caratteristiche di Flaster Cloud dell'appliance e anche chiaramente offrirà qualcosa in più in quanto è un prodotto di nuovissima concessione qui abbiamo le caratteristiche comparative c'è un confronto delle soluzioni tra Flaster Cloud e la nuova cloud box il filtro contenuto ce l'hanno tutte la protezione malware ce l'hanno tutte la la protezione del motore di ricerca ce l'hanno tutte sia la cloud box che il cloud la reportistica il blocco geografico la pagina di stop customizzabile per esempio se voi siete in un'azienda e volete comunque far apparire il logo dell'azienda quando viene acceduto un sito pornografico si può customizzare col vostro logo la rete si basa su una rete comunque mondiale sull'Henicast di servizi e il nostro sistema di licenza ma senza sugli utenti concorrenti per cui per una scuola che ha per esempio 2000 tra studenti insegnanti oppure collaboratori ma navigano contemporaneamente in media solo in 200 vuoi pagare soltanto la licenza per 200 poi in più la cloud box ha il firewall la protezione granulare si autentica con la directory capi porta e google service l'air 7 il multi-one e multi-land analisi traffico e anche telelavoro e vpl queste qui sono le caratteristiche a confronto la brochure la mandiamo nella mail che seguirà poi i contenuti di questo webinar per cui per dare il scotto la brochure della cloud box chiede un flash start cloud è criptato gli archivi sono chiaramente criptati le path sono chiaramente codificati con chiave con ash si con ash chiaramente di me la 2 si chiaro la 2 la 2 questi qui sono alcuni screenshot della cloud box che ho rubato allo sviluppo ieri senza che loro se l'accorcessero chiediamo comunque il menu l'home page e anche la protezione granulare per gruppi di utenti mi entro e faccio una condivisione dello schermo giusto giusto un minuto perché vedo che mi stanno chiedendo di fare una brevissima presentazione live di flash start cloud che è il nostro prodotto attualmente principale quello comunque diffuso a livello mondiale vi chiedo se si vedono se si vedono le slide oppure no vi chiedo se se è visibile bene cioè le slide la schermata ok bene questo è bene questo prodotto si chiama flash start cloud è il nostro prodotto chiaramente standard ok dicono di sì bene ecco quando entriamo intanto vediamo subito che tipo di traffico viene fatto cracks war pornografia gioco d'azzardo chiaramente io sul report e puoi vedere chiaramente i numeri da notare che noi comunichiamo quali categorie di siti sono stati consultati oppure bloccati ma non comunicheremo mai la macchina a parte che flash start cloud essendo remoto non può neanche vedere quella utente per esempio che è andato su playboy.com però vediamo che hanno fatto in ultimi tre giorni 101 accessi ai siti di pornografia qualunque report è ovviamente schedulabile per cui il dirigente scolastico l'imprenditore il comunque responsabile di siti può vedere e anche può selezionare quali quali tipologie di report andare a chiaramente leggere se ritorno sui grafici che sono proposti nell'home page vedo che sotto c'è il grafico dei siti consultati che non sono pericolosi per esempio i siti generici i siti i server di contenuti i motori di ricerche i siti di software poi subito sotto vedo il traffico geolocalizzato vediamo che la maggioranza è sia sull'europa che sul nord america ovviamente i server di google e di microsoft i server che il nostro pc consulta che frequentemente stanno in america sotto vediamo quali malware sono stati bloccati dalle liste io posso scegliere e profilare quali blocchi effettuare noi oggi abbiamo un database posso dire comunque un numero tranquillamente da oltre 25 milioni di siti che sono catalogati in oltre 54 diverse categorie proponiamo delle macro categorie che se aperte se spuntate poi mostrano le sottocategorie posso scegliere una categoria se bloccarla se sbloccarla oppure se oppure bloccarla in certe fasce varie per esempio mi hai rubato le parole di blocca ormai conosco ti blocca anche te navigare per esempio facebook nell'avviene c'è sempre il classico dilemma facebook si oppure facebook no voi cosa cosa fareste se non è chiaro anche che accordo fare si può schedulare ossia social network noi possiamo schedularla quindi possiamo per esempio scegliere di bloccarla dalle 8 di mattina fino fino a mezzogiorno che è comunque la fascia oraria comunque lavorativa standard poi la lasciamo libera per poi riduoccarla ancora dalle 14 di pomeriggio fino alle 18 di sera prima e dopo e anche nella cosa pranzo facebook e anche i vari social network vengono chiaramente consentiti poi c'è il discorso del job blocking io se non uso troppo siti esteri posso bloccare la russia in questo caso blocco tutta la russia anche il commonwealth russo poi blocco certi siti comunque dell'africa l'asia certi siti magari possono essere comunque veicolo e viacquere l'india in questo caso come è consigliato il vietnam che è in asia che in geografia avevo 6 6 e mezzo quindi non so se c'è qualche prof di geografia ma non vogliate ne sbaglio qualche continente poi blocco molto importante le connessioni satellitari molti hacker si collegano con i satelliti poi blocco anche gli indirizzi IP che non sono classificati cioè l'IP e bulk e IANA ossia l'IP che non sono registrati presso nessun organismo e in pratica possono spesso insomma causare problematiche su reporting abbiamo tutta una serie poi direi che posso comunque selezionare e anche che posso schedulare 5 lingue chiaramente l'italiano è la lingua base il supporto e anche poi la manualistica sono chiaramente molto molto ben fatti da notare che se vendete router per esempio per esempio i micro che ho detto la pro la masch perché sono le router board più vendute abbiamo anche i manuali con l'integrazione adattiva per esempio se usate i micro ti automaticamente si può settare in 3 minuti con gli script che forniamo direttamente a noi 30 secondi invece per mostrarvi la cloud box qui adesso vi sto mostrando la versione beta ancora per cui perdonatemi se qualcosa manca ma siamo comunque in una beta lo sviluppo dopo me la farò pagare ma comunque la voglio mostrare lo stesso questa invece la cloud box quindi la soluzione che è ibrida che a metà tra il cloud e anche l'appliance prende il meglio dal cloud per poi clonare una soluzione di tipo appliance l'home page l'ingresso è quasi simile tranne comunque la sincronizzazione dal cloud all'apparato poi invece se io se io spunto il menu vedo per esempio che ho e molte le opzioni del classico cloud se faccio filtro web posso crearmi dei gruppi con dentro degli utenti per esempio studenti oppure teacher insegnanti oppure semplicemente posso mettere anche degli indirizzi IP tranquillamente quindi posso mettere sia IP di macchine oppure per esempio anche degli utenti in questo caso sono IP delle macchine che accederanno a internet si IP delle macchine o se no se invece voglio comunque lavorare sull'utente mi abirito l'autentica e per esempio qualunque utente per esempio Mario Rossi che è un insegnante da qualunque macchina si collega prende eredita le sue polisi Filippo Rossi che è uno studente da qualunque macchina si collega chiaramente erediterà un'altra serie di polisi posso per ogni gruppo poi selezionarmi le liste quindi come prima su Twitter Cloud si è visto come selezionare le liste globalmente sull'intera rete qui invece io posso scegliere per gli impiegati blocco Facebook blocco le news e blocco i siti di tempo libero per per i top manager invece addirittura posso fare un profilo non filtrato pur magari posso creare dei profili magari con soltanto siti prodotti che sono da bloccare mentre libero Facebook e anche poi libero tutti gli altri siti quindi la protezione diventa ovviamente granulare con i settaggi poi abbiamo lo strumento dell'autentica che è molto semplice con i tre tipi dell'autentica Radius che è il protocollo più usato oggi giorno per lo scanno dei dati per esempio con l'access point oppure con i router possiamo autenticarci con l'active directory oppure con google g suite è molto semplice si seleziona per poi chiaramente andare a mettere i vari dati che ho questo per esempio è la configurazione con l'active directory io metto chiaramente dp il nome del del mio server e anche la password che ho scurato ovviamente per privacy poi abbiamo lo strumento firewall che è molto importante quindi c'è il firewall sia in uscita firewall in ingresso e poi c'è anche il firewall tra reti oppure noi possiamo scegliere se abbiamo per esempio una RAM e uno DMZ oppure abbiamo la rete degli uffici con la rete dell'AE dei laboratori possiamo scegliere quali punti aprirvi e anche se aprirvi il tutto in modalità chiaramente granulare e su ciascuna porta e per ciascuna porta ovviamente ricordiamo che si possono profilare le porte mi dice ringrazio l'istituto mi dice Patrizio per bloccare i siti porno capita che nella ricerca con google vengano visualizzate e le immagini poca date bella domanda la sposo e rimetto l'immagine precedente che avevo tolto ok chiedo se l'immagine si vede ancora per Patrizio ecco qua quindi ci dicono su google se cerco su immagini per esempio cerco Dona Nune di un terreno magari un accusato google contiene nella sua memoria le immagini per cui moltissimi siti moltissimi software di filtraggio chiaramente vengono passati flash start utilizza già da molti anni sulle impostazioni avanzate la protezione delle ricerche di google e bing cosa vuol dire noi in modo nativo andiamo a richiamare l'API ossia andiamo a richiamare le specifiche di google e bing per poi proteggere e per filtrare i risultati che vengono fuori cosa otterremo otterremo che le ricerche saranno già filtrate da cosa dai siti pedoformografici dalla violenza dai siti per esempio ineggianti fascismo oppure nazismo oppure dai siti che non sono consentiti questa protezione è presente sia su Presta Cloud e anche sulla nuova Cloudbox controllo ancora le varie domande se avete anche domande per ingegnere fatele pure in questo momento e erano più su magari dopo le andiamo a vedere un attimo se è possibile indurare alcuni utenti a cui non si applica il blog Rosetta si chiaramente puoi fare un profilo per esempio top manager oppure utenti liberi che navigheranno saranno reportizzati quindi comunque il traffico tu lo potrai vedere anche analizzare ma non avranno poi alcun blocco Francesco Urbani ci dice molti provider di collettività che danno router cioè in pratica che danno comunque router con il loro firewall e non permettono di cambiare le apparecchiature dice sono la consideranza allo stato dell'arte questo è sicuramente per te Giorgio e in questo caso chi è responsabile se non possiamo configurare i router perché si viene dato dal provider? In realtà quello del router proprietario è una cosa su cui adesso purtroppo il governo non c'è più c'era il sottosegretario Giacomelli che è una persona molto attenta ai treni della rete che aveva fatto una proposta di legge in questo senso io non ho notizie se questa proposta perché il router proprietario viola la concorrenza e non è è una cosa sulla quale stanno cercando di lavorare per toglierlo blocca l'utente lo ingabbia lo ingabbia tra l'altro magari l'obbliga a usare un router di qualità spesso anche abbastanza scadente sul quale mi viene chiesto tutto il canone quindi la cosa è in evoluzione in caso scusa non capisco scusa fammi mi hai tolto la domanda non capisco cosa voglio dire solo considerare lo stato dell'arte e in questo caso la responsabilità è di creare sul quale sul cliente è chiaro che il cliente a mio parere non è malevato perché c'è un router di tipo proprietario è chiaro che quello che succede a valle del router è di responsabilità del cliente permettere un altro file esatto posso il documento è consentito posso proteggere a valle anzi è quello che normalmente si fa vediamo chiusa un NAS cioè la classica box col cavo Ethernet al posto di un server è concesso ma diciamo che il GDPR non è anche in questi tecnicismi come dicevo prima il GDPR ci dice fate le cose per proteggere i vostri dati ma fatene bene quindi il NAS è una cosa utile poi e questo è un discorso che io faccio nei corsi dove c'è più tempo il NAS è una cosa estremamente utile che le aziende dovrebbero avere ma nella misura in cui il NAS poi è connesso H24 con il resto della rete potrebbe essere a sua volta colpito da un ransomware se questo NAS è fatto in funzione di creare il backup dovrà essere un NAS con un livello di protezione diversa e non accessibile a tutti perché l'utente Pippo si prende un ransomware e il ransomware sappiamo si propaga su tutti i computer che vede e se vede il NAS lo infetta un attimo intanto che rispondete vi chiedo anche di compilare il nostro sondaggio vi chiedo di compilarlo per migliorarci e anche poi per fare un po' il punto con un osservatorio che poi pubblicheremo chiaramente con dati con dati regati per cui prima di di lasciarci vi chiedo di rispondere comunque brevemente a queste domande che stanno comparendo sulla pagina noi proseguiamo rispondo ecco che Lanfranco Vandelli che referenze deve avere un DPO allora qui c'è un po' di confusione allora l'ho detto prima il DPO non è richiesta una certificazione dal GDPR per fare il DPO il DPO il GDPR PAMA che deve essere una figura con una professionalità riconosciuta quindi in pratica ci dice che non è che tutti possono fare il GDPR ma non prevede una certificazione dall'altra parte c'è un'altra norma che è la 11.5 la norma 1.IN che ha creato una serie di profili certificati in ottica GDPR quindi uno si può certificare ma come ho detto prima questa certificazione non è obbligatoria cioè io posso fare il DPO anche se non ho questa certificazione quindi hanno creato la certificazione ma non è obbligatoria c'è ancora un po' di confusione il GDPR è nato dopo una lunga gestazione perché se ne parla dal 2008 2009 e solo nel 2016 è uscito è una formula fatta di tanti compromessi e quindi stanno entrando le linee guida tra cui le tante linee guida che fa il WP29 per fare chiarezza su certi aspetti che sono ancora un po' confusi c'è una domanda su Flash Start David Scott mi dice cos'è Flash Start Cloudbox è intanto è un servizio software che lavora in cloud con un hardware con un hardware che può essere sia fisico oppure virtuale sia i OneWare oppure KQM una qualunque piattaforma di macchina virtuale che si colloca fisicamente chiaramente presso la rete del tuo cliente l'hardware può fornire Flash Start oppure se preferisci se anche tu commercializzi hardware secondo le nostre specifiche puoi usare anche il tuo hardware senza problemi tanto che Giorgio Sbaragli risponde a altre domande vi ricordo di compilarci il nostro sondaggio grazie lo aspetto perché ci serve molto per migliorarci lo stato attuale è un amministratore di una problematica di learning in cui vengono accidenti vengono registrati gli iscritti con il nome e il codice fiscale all'inarci e il luogo deve fare per adeguarsi in realtà questi sono dati non sensibili che il cognome il codice fiscale sono dati sì sono dati personali ma non sono dati nascosti direi che qui non deve fare praticamente nulla una buona regola sarebbe comunque chi fa una piattaforma di learning e chiunque ha dei clienti farsi comunque rilasciare il consenso ma che serve l'informatico Marino oppure l'avvocato serve sicuramente un consulente servono ambedue chi non ce l'ha vi ricordo che il nostro ingegnere è comunque disponibile previo contatto con l'attività di libera professione se avete bisogno di sicurezza c'è Flestart che ovviamente lavora con i vostri consulenti per i clienti finali e voglio dirvi che Flestart che Flestart lavora unicamente tramite il canale questo è molto importante quindi comunque noi c'è uno slogan we love the channel noi comunque lavoriamo soltanto con i rivenditori per cui se voi siete clienti finali potete contattarci e poi noi vi dirotteremo sul nostro dealer sul nostro partner che ovviamente è più vicino a voi per questi 10 giorni c'è uno sconto che è importante poi comunque arriverà nella mail c'è uno sconto del 20% su qualunque licenza qualunque abbonamento Flestart la promozione è chiaramente riservata al nostro canale partner che poi rigiderà questo sconto questo voucher al clienti finali per qualunque ordine pervenuto entro le 24 e il 25 marzo quindi manca una settimana per un contatto info chiocciola flashstart.it torno sul sondaggio perché ancora manca qualche amico che deve compilarlo grazie allora rispondo dunque rispondo a una società che deve chiedere il supporto rispondo a Marino in pratica qui ci vuole la figura legale la figura dell'informatico io quando vengo chiamato nelle aziende ho un avvocato per cui normalmente collaboro che fa la parte più passate nel termine più tradizionale io mi occupo di quella più informata ma molte volte la parte legale molte volte le aziende la possono ricavare anche attraverso la sezione di categoria che magari ti forniscono già la modulistica che deve essere cambiata in funzione del nuovo GDPR perché alla fine se un'azienda ricordiamoci che se un'azienda aveva messo in pratica il codice della privacy come dovrebbe essere perché non è che la privacy l'hanno inventata adesso c'era anche prima se un'azienda aveva era posto con il 196 del 2003 dovrà tutt'al più modificare la modulistica e recuperare cioè aggiornare la modulistica quello che non c'era prima che quindi non può avere fatto è la parte informatica ci chiedono per una piccola azienda quali sono le l'intervento minimo che bisogna fare per essere in realtà allora io di solito ragiono così l'intervento minimo è una piccola audit cioè si va in azienda e si vede lo stato dell'altro si vede il livello che l'azienda è l'azienda potrebbe essere già a posto secondo la vecchia normativa del vecchio codice privacy o potrebbe essere un'azienda che non ha mai fatto nulla e quindi di lì si capisce che cosa qual è la cioè prima di fare di prescrivere la medicina dobbiamo visitare il paziente quindi si fa un audit che può essere anche solo di qualche ora io ne ho fatti anche in alcune aziende addirittura di tre e mezza giornate ma in alcuni casi può bastare anche due, tre, quattro ore dopodiché lì si ricavano le conclusioni le conclusioni saranno e io normalmente si fa un vero e proprio assessment una relazione finale che l'azienda potrà poi inserire nel proprio registro dei trattamenti per dimostrare che ha fatto le cose in questa relazione ci sarà una fotografia dello stato dell'azienda e gli interventi consigliati da fare per migliorare la situazione che possono essere interventi di tipo legale quindi sistema in la mobilistica eccetera eccetera piuttosto che installo un sistema informatico migliore faccio la fotografia dei dati eccetera eccetera per l'azienda viaggio ritengo che abbiamo comunque dati normali standard e non sensibili particolari per cui trattamento diciamo prima c'era una domanda sulle associazioni sportive per le associazioni sportive ne parlavo proprio un paio di giorni fa con il presidente nazionale di una delle più delle più importanti associazioni sportive italiane e le associazioni sportive hanno dei bei problemi perché sono intanto tipicamente non hanno tanti soldi per fare le cose ma hanno dati in genere abbastanza sensibili e molto spesso anche dati di minorelli quindi il problema è abbastanza delicato le associazioni sportive non lo devono sottovalutare direi l'ultima domanda sugli impianti di videosorveglianza poi dobbiamo concludere il discorso della videosorveglianza che era prescritto dalla privacy dal regolamento privacy dalla codice privacy rimane la videosorveglianza è un problema molto delicato che coinvolge soprattutto delle aziende coinvolge anche le organizzazioni sindacali è un tema è un campo minato la videosorveglianza che va trattata con grata attenzione perché ciò si rischia veramente delle sanzioni e degli incidenti per domani vi ricordo che noi invieremo una mail a tutti voi che avete partecipato con la videoregistrazione con le slide che saranno divulgate con Creative Commons dell'ingegnere Giorgio Sbaraglia che vi ricordo che è disposizione previo contatto email per qualunque consulenza a livello professionale comunque domani c'è anche il sito di Giorgio Sbaraglia e anche la mail e sarà presente anche il voucher con il 20% di sconto per l'acquisto per il canale partner di Flestat che è riservato entro le ore 24 del 25 maggio faccio l'ultima risposta perché è abbastanza è una domanda generica quindi piuttosto utile Urbani Francesco il GDPR mi sembra di capire non dà punti di riferimento preciso pertanto quando si parla di adottarsi delle tecnologie per la sicurezza allo stato dell'arte cosa vuol dire per una piccola azienda ecco è vero il GDPR proprio in una logica di common law di diritto anglosassone ci dice fate il meglio possibile non c'è nessun articolo io questo lo dico sempre nel GDPR che dice è vietato farsi rubare i dati è vietato subire un data breach no è vietato non fare nulla per proteggere i propri dati come fare per proteggerlo c'è tutto un discorso che va anche sotto il nome DPA Data Privacy Impact Assessment quindi io faccio una verifica un po' quello che faccio ma che vado a fare io nell'azienda una verifica di quello che è lo stato dell'azienda quali sono le criticità e su quelle vado a lavorare poi posso decidere che su certe criticità certi rischi io faccio l'accettazione del rischio cioè non posso perché costa troppo o perché non ho intenzione di fare non intendo fare certe migliorie accetto il rischio sapendo che in quel problema manterrò un punto di debolezza quindi non c'è infatti manca una certificazione a fronte della quale un'azienda possa dire io sono certificata GDPR non c'è la certificazione ma arriverà secondo te Giorgio? ne stanno parlando ne stanno parlando sarebbe utile sarebbe utile poi noi italiani abbiamo bisogno del pollino che ci pari la certificazione al momento al momento non c'è richiamo i privacy seals i sigilli di privacy la certificazione al momento non c'è ne stanno parlando potrebbe nascere potrebbe nascere anche in forma un po' disordinata cioè che ce ne siano diverse ci potrebbero essere anche enti terzi che si creano la loro quindi c'è un po' di confusione però una cosa e qui mi riferisco subito alle aziende da una certa dimensione in su una cosa che sarebbe transciante che sarebbe sicuramente ottima e metterebbe l'azienda direi al sicuro è se l'azienda sceglie cosa che io faccio in alcune aziende non tante ancora la certificazione ISO 27001 che è la norma per la protezione dei dati per la sicurezza dei dati informati è chiaro che in una piccola azienda questo non ha senso però se una grande azienda si certifica una grande io ho fatto la certificazione di tante persone di 30 persone quindi anche un'azienda non tanto grande si fa la certificazione ISO 27001 e fa qualcosa che rispetto al GDPR è addirittura sovrabbondante bene quindi è a posto concludiamo il webinar di oggi è la mezza e vi lascio ancora tre minuti per compilare il nostro questionario intanto ringrazio l'ingegnere Giorgio Sbaraglia domani arriva il video le slide e anche il voucher con il 20% di sconto e anche i contatti per la consulenza professionale dell'ingegnere Giorgio Sbaraglia compilato per piacere il questionario perché sicuramente ci permette di migliorarci grazie a voi e vi auguro chiaramente un buon proseguimento di giornata grazie e una buona giornata buongiorno ciao a tutti grazie